Buongiorno, sono Francesco Menchise, Sales Engineer di LG Electronics Italia. Siamo qui a ISE 2015, dove esponiamo tutta la gamma di prodotti professionali. In particolar modo, qui abbiamo un nuovo prodotto della gamma alta luminosità, è un 2500 candele finito, già predisposto per le installazioni, soprattutto nelle vetrine dei negozi, senza bisogno di ulteriori accorgimenti per il raffreddamento, in quanto già predisposto per tale funzione. Alle mie spalle possiamo vedere anche un monitor trasparente, con un'applicazione che gira, all'interno si possono vedere degli oggetti, mentre frontalmente i contenuti che cambiano spiegano quello che c'è all'interno. Qui ci troviamo nell'area Smart Education, dove presentiamo due nuovi prodotti in aggiunta alla gamma già esistente, sono il 98 pollici interattivo e il 105 pollici, formato 5K Ultra HD. Sono tutti tecnologie a infrarossi e supportano fino a 10 tocchi simultanea. In quest'area presentiamo la nostra soluzione WebOS, che è un sistema operativo proprietario di LG, applicato sui monitor professionali, e permette ai sistemi integrator di sviluppare la loro applicazione e usarla per inviare contenuti direttamente sui monitor, senza l'aggiunta di player esterni ai monitor. Infatti alcuni partner che hanno sviluppato le loro applicazioni presentano qui le loro piattaforme.